e ritorniamo in studio alcuni di noi attraverso i social ce l'hanno già detto ma non c'è filippo terry questa sera si c'è ve l'abbiamo messo anche un po più in tarda puntata l'abbiamo qui questa nostra rubrica meteorologica ciao filippo terry buonasera caro filippo allora la facciamo la facciamo anche in grande stile questa sera perché preannuncio abbiamo anche delle immagini stupende da guardare insieme ma vedo l'ora di vederle insieme ai nostri telespettatori perché le ho viste prima sono bellissime racconta ce le si letna dopo l'evento parossistico che commentano dello scorso 12 novembre dopo poi una settimana di totale calma a dal 19 novembre poi ha cominciato a inanellare una serie impressionante di eventi tipo stromboliano attività tipica per un vulcano come l'etna ma è assolutamente sorprendente nella sua ciclicità cioè con oltre 250 eventi stromboliani della durata ognuno di 10 minuti un quarto d'ora intervallati da una cadenza quasi svizzera come cronometro di un'ora un'ora e venti fra uno e l'altro che lasciato a bocca aperta anche i ricercatori vulcanologi che studiano questo vulcano da tanti decenni la prima foto di gianni tumino ci porta al 24 di novembre dal versante orientale del vulcano e siamo a metà quindi di quella sequenza di 10 giorni con oltre 20 eventi stromboliani al giorno la foto successiva dello stesso autore con lunga esposizione coglie i tracciati del modo apparente delle stelle oltre al panorama glassato dalle recenti nevicate giorgi usa cinque giorni dopo il 29 di novembre da analogo punto d'osservazione coglie a sua volta uno di quei oltre 250 eventi stromboliani intervallati da una cadenza così regolare così ciclica dario giannobili il giorno dopo il 30 di novembre con questa a sua volta lunga esposizione oltre ai tracciati stellari coglie la nascita di una nube lenticolare guardate questa questa immagine come rende il movimento delle correnti atmosferiche che risalgono sul pendio sopra vento portano la massa d'aria a sollevarsi quindi a condensare in quelle cocioline e poi sul versante sottovento dopo essere stata illuminata dai bagliori dell'attività eruttiva vanno ad avvolgere il vulcano nello scatto successivo di dario la nube ormai avvolto la montagna ma l'attività stromboliana vedete che la sovrasta in questa immagine veramente che è un manifesto del nome del gruppo pittores celli gruppo di fotografi a cui dario appartiene giorgi usa no scusate ancora gianni tumino prima dell'alba del primo dicembre siamo ormai quasi nel clou dell'evento accoglie ancora l'attività stromboliana che però si sta sta rompendo quell'equilibrio di graduale ciclico accumulo di energia altrettanto costante rilascio questo equilibrio si sta rompendo le foto successive di luigi risiglione ci portano il primo dicembre proprio all'inizio di quelle tre ore di evento parossistico il terzo evento il quarto scusate evento parossistico di questo 2023 ma uno dei più spettacolari degli ultimi decenni complice le condizioni metrologiche di eccezionale visibilità l'attività stromboliana diventa attività di fontane laviche iniziano due trabocchi lavici che si vanno incanalando nelle scanalature nei solchi formati dal collasso dei coni vulcanici degli anni precedenti uno lo vedete lo intuite sull'altro versante del vulcano verso sul sud ovest è uno che viene verso il punto di ripresa verso sud est che si va incanalando verso la valle del bove quella valle desertica che si trova sulla parte sud orientale del vulcano veronica testa da analoga punto di ripresa nello stesso momento coglie a sua volta vedete le esplosioni queste grandi esplosioni di bolle di lava accompagnate da violente deflagrazioni che scuotono tutti i centri abitati già dall'attività stromboliana dei giorni precedenti questa continua attività di boati aveva messo così in allarme e anche dal punto di vista fotografico allarme anche positivi con gli occhi puntati sull'etna esatto e l'ultima foto di veronica testa cioè la successiva ci fa anche scorgere la chiesa madre di zafferana etnea quindi dai centri storici anche dei paesi delle città delle cittadine di tutta la sicilia orientale compresa la vietnea e tutte le piazze storiche di catania si ammira l'attività dell'etna questa è giorgiusa che da zafferana etnea coglie a sua volta questo momento ma ha l'intuizione da brava guida di spostarsi sul litorale per cogliere questo scorcio sulla borgo marittimo sul porto turistico di riposto siamo sul litorale catanese a metà strada fra catania e taormina la basilica di san pietro sullo sfondo l'etna la stessa idea di trovare un punto di osservazione in perfetto allineamento con il vulcano è quella che anima michele pantano che trova una terrazza da ortigia quindi la parte antica di siracusa rivolto verso la parte moderna della città avvicina colto l'obiettivo quello che sembra essere un luogo stilizzato creato da un artista per promuovere come simbolo il parco nazionale dell'etna invece è la natura che si autopromuove con questo spettacolo incredibile l'ultima foto anzi la penultima ci porta ancora più lontano da ragusa ragusa ibla martello marcella giulia pace su volta di pictorio cieli trova un'impervia postazione in perfetto allineamento tra il duomo di san giorgio uno dei gioielli assoluti del barocco siciliano a ragusa ibla e sullo sfondo a 95,3 chilometri quasi 100 chilometri vedete quell'attività del dell'etna e gianni tumino da poche decine di metri più in alto da ragusa superiore inquadrando la la cattedrale di san giovanni battista a sua volta ci regala quest'ultimo scorcio su questo andava fatta questa carrellata in ritroviamo domani assolutamente domani grazie al nostro meteorologo filippo tierri loro